Nome Nicola Cognome Curci Età 23 Il tuo motto? Eh, non lo so. Perché hai scelto un corso post diploma e FOA? Perché volevo interfacciarmi il prima possibile con il mondo del lavoro e grazie ai 6 mesi di teoria più i 6 mesi di stage ho raggiunto questo scopo. A quale corso post diploma hai partecipato? Science Management Marketing Assistant Cosa ti è piaciuto di più del corso? La capacità dei docenti di creare team building con gli altri colleghi del corso. Cosa ti ha colpito di più di FOA? La capacità di organizzare corsi ad hoc e selezionare i docenti. Come ti sei trovato in azienda? Molto bene, all'inizio ero in sales sales mentre adesso sono sul territorio. Consiglieresti il corso post diploma a un amico? Ho già consigliato ai miei amici che tuttora stanno lavorando per le aziende che FOA ha selezionato. Cosa vuoi dire a chi ha intenzione di scegliere un corso post diploma? È un corso ottimale per chi è intenzionato a intraprendere una carriera di lavoro nel miglior tempo possibile. Salutaci a tuo modo! Ciao ragazzi, ci vediamo presto!